Finalmente mastico, dopo quasi undici anni mastico. Mi trovavo in imbarazzo perché avevo un apparecchio mobile che nonostante i vari adesivi e tutto quanto mentre parlavo si staccava o mentre si era fuori a mangiare con compagnia mi ritrovavo che si era staccato ed era veramente molto imbarazzante. Non riuscendo a masticare perché non combaciavo nei denti se era sopra o non ce li avevo sotto e viceversa, ho avuto anche diversi problemi fisici proprio dovuto alla mancanza di masticazione. Da ieri che ho i denti definitivi non ho ancora smesso di sorridere, senza mano davanti tra l'altro. E adesso quando tornerò a casa che avrò l'impatto proprio con le persone mie care, lì ci sarà la prova del 9 ma vedo già adesso che è completamente diversa il mio approccio con le persone. Sono molto rigida su quello che riguarda i dentisti, la pulizia e l'approccio che devono avere perché avendo questi problemi da quando avevo dieci anni ne ho passati tutti quelli che erano possibili, magari le dentiste ne ho passati tutti, ho cominciato ad essere un po' selettiva. La mia paura era di arrivare qua e non trovare quello che cercavo, cioè la professionalità, la pulizia, anche l'empatia perché è importantissimo avere anche persone empattiche vicino che capiscono il tuo disagio o le tue paure, cosa che qui invece ho trovato completamente.